Ma guardi, le scelte del Presidente Berlusconi quando ci saranno verranno comunicate in maniera formale, in maniera ufficiale, in maniera trasparente e quindi non certo attraverso retroscena o interpretazioni. Insomma, chi conosce bene Berlusconi sa che le cose funzionano così. Guardi, sono già stata abbastanza chiara su questo tema, sul tema della nostra collocazione europea. Credo che oggi, soprattutto oggi, l'euroscetticismo sia un lusso che chiunque aspiri a governare un Paese come l'Italia non possa assolutamente permettersi. La garanzia perché la coalizione di centrodestra sia una coalizione a trazione europeista è rappresentata dalla capacità di Forza Italia di ritornare ad essere il partito traino della coalizione. Ecco perché mi sono battuta in passato e mi batto tutt'oggi perché Forza Italia rivendichi la sua anima non solo liberale, moderata, garantista, ma soprattutto europeista. In passato abbiamo governato con Fratelli d'Italia, allora era N, con la Lega e Forza Italia ha sempre rappresentato una garanzia dal punto di vista della collocazione euro-atlantica. Allargherei il campo. Oggi c'è bisogno che Forza Italia ritorni a far sentire la sua voce, a far pesare il suo ruolo all'interno della coalizione, naturalmente crescendo nei consensi e ritornando ad essere centrale.